La questione dei migranti e qui vorrei confrontarmi con la sottosegretaria agli interni Vandaferro di Fratelli d'Italia prendendo un paio di titoli da due giornali che hanno posizioni molto diverse Repubblica, freno dell'Unione Europea sui migranti, più rimpatri e muri, le ONG verso la resa, navi ferme e senza soldi e poi l'apertura della verità, svolta del Partito Popolare Europeo, stop migranti, ONG in riga Sottosegretaria, benvenuta, buongiorno Buongiorno a lei e ai radioscoltatori Sicuramente per una volta dobbiamo sottolineare che il governo ha una strategia complessiva che è condivisa in Europa, il controllo delle frontieve, gli accordi bilaterali, i rimpatri dei migranti economici che non hanno diritto a restare ma soprattutto è con la condivisione che è venuta fuori dall'incontro tra i vari ministri dell'interno che hanno condiviso una saturazione ma soprattutto un'emergenza in arrivo che vede ovviamente grandi difficoltà di poter accogliere e di poterlo fare in modo ovviamente decoroso credo che il governo Meloni in tema migratorio dal Nord Africa da quando lo ha posto ha dimostrato che non è soltanto più un problema italiano ma è un tema europeo prioritario e credo che anche la legge... Sottosegretaria mi permetta solo due osservazioni Lei ha usato due parole, saturazione e emergenza in arrivo però i dati, almeno se li leggo bene li capisco, non dicono questo saturazione perché in realtà il mercato del lavoro europeo ha un enorme bisogno di persone noi abbiamo un calo demografico spaventoso quindi il termine saturazione non so se sia quello più adatto e poi emergenza in arrivo però i numeri non mi sembrerebbero dire questo, Sottosegretaria Guardi, purtroppo le proiezioni ma soprattutto quello che siamo convinti possa arrivare nei prossimi mesi in qualche modo lasciano riflettere i tanti da partire dalla stessa Germania, Francia, l'Italia non soltanto e che devo dire anche da parte della Svezia si è dimostrata in questa riunione una grande preoccupazione sicuramente insomma i dati ad oggi sembrano dati che in qualche modo ma purtroppo non è così quindi insomma la solidarietà per puntare sui collocamenti la semplificazione, il meccanismo tra paesi deve essere messo in atto per quanto riguarda il potenziamento anche delle frontiere, dei confini che devono essere anche differenziati, cosa che abbiamo sempre detto tra quelli terrestri e quelli marittimi noi parliamo insomma di un numero importante che lascia onestamente riportare la nostra memoria al 2016-2017 che furono anni purtroppo di grande, di una situazione abbastanza grave e credo che da questo punto di vista insomma quello che ci arriva in termini di proiezione debba far in qualche modo insomma ragionare i paesi lo stanno facendo, credo che anche la stessa von der Leyen nella lettera che ha mandato ieri ha sancito anche questo io credo che insomma nel consiglio dell'otto e del nove sarà sicuramente una discussione che non riguarderà soltanto l'Italia ma che l'Italia ha posto Due questioni ancora, sviluppare il modello del rimpatrio forzato accompagnato dando anche soldi all'immigrato per riportarla a casa sua? Ma guardi, tutto ciò che può essere messo in atto perché noi siamo, voglio dire, che sia legito perché i rimpatri sono insufficienti sui migranti oggi si parla un'altra lingua in modo, devo dire, corale questo volevo sottolineare prima e quindi anche se lei ha, voglio dire, piante dosi ha sempre parlato di un rientro forzato, accompagnato che deve essere accompagnato nel miglior modo possibile e questo deve riguardare ovviamente anche Tra l'altro, sottosegretario, mi permetta di fare una notazione mi pare che Fratelli d'Italia in questo momento abbia una linea più moderata di quella della Lega la Lega ha presentato degli emendamenti che sono ancora più duri di voi Guardi, no, ha presentato degli emendamenti anche io questo lo voglio chiarire perché sia prima che nella Commissione cioè Affari Costituzionali che nella Commissione Trasporti c'è stata ovviamente l'inammissibilità di alcuni emendamenti posti dalla Lega non sulla base del contenuto in sé e per sé ma rispetto al fatto che non potevano essere legati al decreto e quindi in qualche modo è stata dichiarata l'inammissibilità dai presidenti ma con grande chiarezza di dire insomma che l'idea nel fronteggiare seppur con delle sfumature il fenomeno dell'immigrazione regolare insomma ci vede da sempre abbastanza Sottosegretario, l'ultima e più delicata questione poi sarà con noi anche il presidente di SOS Mediterranei alle ONG avete reso la vita così difficile che adesso non hanno quasi più soldi e vanno verso il fermo rispetto ai loro salvataggi perché quello sono Guardi, noi non è che abbiamo reso la vita difficile abbiamo posto delle regole delle regole che non incentivino come avviene attraverso le ONG le partenze perché dobbiamo mirare a bloccare le partenze e soprattutto dobbiamo mirare a delle regole dove quando si fanno i salvataggi non più i salvataggi multipli perché c'è questa grande critica dei migranti per 3-4 giorni a mare quando con i salvataggi multipli o nel passato recente penso all'epoca alla Morgese stavano anche 2-3 settimane in mare ecco, forse è troppo forte utilizzare i taxi del mare ma al momento questa è la dimostrazione rispetto soprattutto alla rotta che vede arrivare i migranti dalle Tripolitania regole che devono in qualche modo essere condivise con lo Stato di accoglienza e voglio anche sottolineare insomma in qualche modo che i salvataggi vengono fatti dalla nostra Marina dalla nostra Capitanina di Porto dalla nostra Guardia di Finanza io credo che delle regole molto chiare e anche un pochino, mi perdoni poi per carità sono tutti al vaglio della magistratura in questo momento anche un po' di trasparenza rispetto ai trasporti non dico di tutte le ONG ma di quelle che al momento sembrano avere dei rapporti con gli scafisti la sottosegretaria Vanda Ferro che sta parlando sottosegretaria agli interni peraltro ora vi do una notizia veramente terribile che ho ascoltato nel GR regionale ma che non è stata ascoltata al nazionale l'ha appena battuta come urgente l'Ansa si è ribaltata un'auto vicino a Roma sono morti cinque ragazzi e un sesto che si trova a bordo è stato trasportato in ospedale qui torna quel tremendo tema della sicurezza sulle strade sottosegretaria che veramente ossessiona chiunque sia genitore perché sono sempre questi adolescenti o di una plenissima giovinezza ogni weekend è un massacro è una cosa spaventosa condividere è un tema che andrà affrontato andrà affrontato ovviamente in modo abbastanza veloce perché i numeri sono anche molto alti e purtroppo è quello che registriamo quasi nella quotidianità sì 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 sì